L'imprenditore deve ottenere grandi risultati senza per forza dover investire grandi risorse. Siamo in un momento particolare, il mondo è cambiato, non tornerà più quello di prima, quindi dobbiamo adattarci a quella che chiamiamo la nuova normalità. L'imprenditore deve ottenere grandi risultati con le persone che ha, non deve per forza aumentare la struttura, non deve investire tanto denaro nelle persone, ma riuscire a ottenere grandi risultati motivando le persone. Non deve investire tanta risorsa e tanta energia nella pianificazione del suo business, ma deve imparare ad essere reattivo e flessibile in base alle esigenze del mercato. Nel mercato gli obiettivi sono tutti mobili, nel senso che una volta che abbiamo stabilito un obiettivo il mercato poi ce lo cambia, perché cambia molto velocemente. Per cui se abbiamo la conoscenza di ciò che vogliamo, abbiamo coinvolto le persone con la motivazione, non solo col denaro, sapremo essere molto più reattivi sia noi come imprenditori che i nostri collaboratori.